ciao buongiorno e buon lunedì oggi sono esattamente in un'ora di ritardo anzi anzi qualche qualche minuto di più perché ho dovuto fare delle commissioni e poi sinceramente ero indecisa se fare questa diretta oppure no però ormai la gente si è abituata che io qui 5 5 10 minuti ogni giorno li trascorre a chiacchierare di valtellina è un po difficile parlare oggi di eventi quando l'evento principale l'argomento principale è quello del coronavirus parliamoci chiaro quindi anche la valtellina in qualche modo è stata coinvolta con una persona che è risultata positiva quindi gli argomenti del weekend sono stati solamente quelli però io devo dire che ho festeggiato mia figlia che ha compiuto 18 anni giovedì l'abbiamo festeggiata ieri abbiamo fatto una bellissima festa abbiamo mangiato una torta stupenda spettacolare che ho fatto preparare dal panificio pola che anche pasticceria buonissima buonissima se vi servono torte ve lo consiglio assolutamente perché è stata una cosa fantastica proprio l'abbiamo sbaffata tutti di solito se della torta ne avanza magari qualche pezzetto invece in quel caso l'abbiamo proprio mangiato tutti quindi è stata una bella festa una bella domenica nonostante le notizie che che circolano perché parliamoci chiaro insomma se sei sui social accendi la televisione guarda i giornali l'argomento quello io posso dire che questa mattina sono uscita appunto per commissioni ho visto tanti parcheggi vuoti però forse lunedì quindi non so se sia per quello la strada era poco trafficata per il tratto che ho percorso io non c'era veramente pochissimo traffico e ho notato soprattutto i parcheggi dei cenni nella zona commerciale di castione semi vuoti e anche lì però non so se perché lunedì mattina sono chiusi o se perché la gente non è uscita di casa ieri ho visto delle fotografie pazzesche di scaffali svuotati nei supermercati nei negozi non so cosa dire forse la gente sta andando un po fuori di testa non ha paura del coronavirus ma paura di morire di fame evidentemente quindi non so se c'è bisogno veramente questa corsa all'accappararsi perché poi finiamo tutti chiusi in casa non usciamo più non arriva più nulla non lo so secondo me queste sono sono un po delle psicosiche dettate dalla paura dalla paura quando non si sa quello che accade quando non si sa quale sia la verità io tantomeno non sono sono l'ultima persona che possa dire cosa cosa è giusto cosa 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 bisogna fare cosa assolutamente no io posso dire quello che faccio io quello quello che sento io ma lungi da mai dare consigli una cosa è certa stare a lamentarsi ad accusare colpa di quello do bisognava fare così e colpa dell'altro bisogna fare cosa non serve a nulla io credo che oggi serva usare un po di cervello attenzione cambiare qualche abitudine ok se dobbiamo lavarci le mani una volta in più evitare magari per un certo periodo di frequentare dei posti affollati in particolare se abbiamo a che fare con le persone che hanno le difese monetarie basse perché sono loro effettivamente le persone molto anziane che sono che sono a rischio ma per tutti gli altri ragazzi non è che che per uno starnuto adesso stiamo morendo tutti questo non significa sottovalutare la cosa ma neanche ingigantirla troppo quindi informiamoci sui attraverso e in forma fonti ufficiali fonti certe ieri volevo anche chiedere scusa perché ieri a un certo punto ho diffuso una notizia su nomino dove hanno detto che il prefetto aveva emesso un ordinanza di divieto di tutti i carnevali io mi sono fidata di questa testata e non ho verificato la fonte quindi ammetto un mio errore e qualcuno ha detto no ma guarda che non esiste nulla di ufficiale ma come cavolo questo giornale ha scritto questa cosa io pensavo che fosse insomma abbastanza autorevole ecco non era topolino poi cosa ho fatto ho chiamato in prefettura per accertarmi di questa cosa e lì mi hanno detto guardi è ancora in corso una riunione ma non c'è nulla di definitivo allora ho cancellato il post ho richiamato dopo un'ora e mi hanno detto effettivamente che non c'era nessuna ordinanza del prefetto cioè dipendeva dai sindaci dei vari comuni decidere se fare il carnevale oppure no quindi questa cosa è stata per me ecco per me è stata una lezione che non mi devo assolutamente fidare di nessuno quando ci sono notizie del genere bisogna sempre andare a verificare alla fonte quindi anche voi quando leggete tutte le varie informazioni perché gira di tutto e di più su questo coronavirus veramente cioè finché si cura con il decotto di zenzero cioè una cosa pazzesca io credo che siamo in mano a tanti ottimi medici virologi immunologi insomma tutte queste persone che stanno lavorando veramente alacremente e non hanno bisogno di polemiche di consigli di suggerimenti perché sanno loro cosa c'è da fare dobbiamo fidarci ma soprattutto dobbiamo essere sereni io almeno io sono così la sento così se l'universo vuole che io mi ammali un giorno di di questo benedetto coronavirus ma pazienza però non sto adesso a fasciarmi la testa prima del tempo che magari non lo beccherò neanche mai quando sarà il momento ne prenderò atto nel frattempo prendo tutte le mie belle precauzioni insomma come vi dicevo magari facciamo qualche passeggiata in più rafforziamo il sistema immunitario invece di stare tutto il giorno in casa davanti a un televisore o davanti al computer a leggere tutte queste brutte notizie andiamo all'aria aperta non un luogo affollato andiamo all'aria aperta a farci una bella passeggiata in un parco in montagna in campagna dove vuoi che magari serve di più che qualsiasi altra cosa e poi ogni tanto spegniamo un po' tutti questi media che ci mettono veramente solo un po' di di cattivo umore oggi è una giornata bellissima ci sono 23 gradi è veramente una temperatura pazzesca per essere per essere ancora in inverno e quindi il mio consiglio a mia diretta oggi non sto a parlare degli eventi perché non so cosa succederà tanti mi hanno mi hanno scritto mi hanno comunicato che sono stati annullati ovviamente quando sono in base all'ordinanza che c'è stata dalla regione Lombardia quindi teatri spettacoli teatrali culturali le scuole chiuse insomma sono state per una settimana siamo un po' così in balia degli eventi noi speriamo io spero che tutto si risolva al meglio che che veramente le persone riescano ad affrontare questa chiamiamolo sì questa emergenza in modo intelligente quindi evitiamo gli allarmismi evitiamo veramente di creare panico sempre con le antenne le antenne alzate ascoltare informarsi ma andiamo avanti a vivere la nostra vita regolarmente per quanto sia possibile poi vedremo vedremo cosa succede nel frattempo se resti a casa che non sai cosa fare perché magari sai come passare il tempo puoi sempre metterti a cucinare quindi non so magari fa una scorta di farina della polenta ti fai pizzoccheri prova a fare gli shot tutti quelli tutti quei buoni cibi valtellinesi non dietetici che però ti possono fare bene allo spirito e se vuoi un consiglio io ti consiglio di utilizzare la farina tudori il molino tudori di teglio che è una farina fantastica per preparare i pizzoccheri tutti tutti quelle buone quei buoni cibi valtellinesi è un'azienda che da da diverse generazioni macina grano seraceno un grano seraceno che proviene da da europa da coltivazioni scelte e qualificate qualcuno dice ma no però il grano valtellinese non ce n'è abbastanza per tutti non ce n'è abbastanza per tutti quindi lo importano però lo importano con molta attenzione facendo bene attenzione da dove arriva quindi se vuoi fare ti metti a scarellare pizzoccheri gli shot in questa settimana di ferie di riposo di stacco puoi sempre farlo dai prendiamola con filosofia io spero di averti dato non so un qualcosa in più di diverso dicendo siamo siamo nati per per vivere non so al meglio cercare di sempre trovare al meglio nella vita incontriamo sempre delle ci sono delle cadute ci sono degli inciampi ci sono delle cose impreviste che tipo questa nessuno la poteva prevedere quindi le cose noi stiamo a programmare magari a farci le menate per tante cose e poi da un giorno all'altro ti cambiano tutti ti cambiano i progetti non puoi più andare in vacanza non ti puoi spostare adesso ho sentito che a ischia non vogliono non vogliono i lombardi e i veneti questa cosa mi fa sorridere perché perché non c'è altro da fare ecco ho sentito anche che un aereo atterrato alle alle maurizios stava facendo scendere tutte le persone quindi un aereo proveniente dall'italia stava facendo scendere tutti tranne e quelli che provenivano dalla dalla lombardia e dal veneto e forse anche dal piemonte ma hanno viaggiato tutto insieme durante tutto il viaggio quindi eventualmente se qualcuno era contagiato è contagiati tutti ma vabbè dai speriamo nella buona sorte speriamo che queste cose si sistemino il più presto e ci sentiamo domani con qualche argomento spero più interessante parlerò di valtellina no sicuramente domani non si parlerà più di coronavirus mi raccomando state in gamba e ci vediamo domani ok ciao